Salute e sicurezza sul lavoro di comunicazione non convenzionali, film, performance teatrali, spicce emozionali e musica, per sensibilizzare e motivare l'azione. Dopo tre edizioni in presenza, in cui ha radunato più di 2000 persone nei teatri di Bologna, Firenze e Roma, quest'anno per la prima volta si è trasformato in un'esperienza digitale. L'evento è stato pensato come un viaggio nella leadership in sicurezza, ricco di contenuti di valore. Ad ogni tappa hanno partecipato ospiti eccezionali, leader aziendali e istituzionali, professori universitari, giornalisti, scienziati e artisti, che hanno condiviso strategie e messaggi preziosi. Grazie alla regia della casa di produzione Tokyo Studio, è stato creato un vero e proprio show in stile televisivo, capace di dare unità e coerenza ai diversi contenuti proposti. musica, video, interviste, servizi giornalistici e uno spettacolo teatrale appositamente girato per l'occasione. Per mantenere un alto grado di interattività, è stata scelta una piattaforma online in grado di offrire, oltre allo streaming e alla chat, la possibilità di sedersi ai tavoli virtuali, incontrare altri partecipanti e approfittare di sessioni formative di gruppo con esperti di salute, alimentazione, sport e leadership. La campagna di comunicazione ha puntato sulla curiosità e sul passaparola. La notizia dell'evento è stata diffusa tramite newsletter, stampa e social, senza mai rivelare il programma. Chi ha scelto di pre-registrarsi è stato accompagnato all'appuntamento con anticipazioni settimanari e video tutorial sulle funzionalità della piattaforma, creando un clima di attesa e partecipazione. Il risultato è stato incredibile. Il 4 marzo 2021, 1200 persone si sono collegate da 60 paesi del mondo per assistere all'evento, 14 ospiti, 8 contributi video, una media di 700 collegamenti in contemporanea per 7 ore di intrattenimento e dibattito, a cui hanno partecipato amministratori delegati, manager, professionisti della sicurezza delle risorse umane, formatori, insegnanti e studenti. Il loro calore e il loro feedback sono la dimostrazione che, anche in forma digitale, è possibile emozionare, ispirare e aprire a nuovi orizzonti.